E' di pochi giorni fa l'elezione del nostro Vescovo a Vicepresidente della Comece e noi siamo abituati ormai in questo periodo da sentire spesso parlare di Europa ma direi per tutt'altro tenore per le questioni economiche, per le questioni politiche e invece è importante credo anche ricordare che forse tra le tante divisioni che invece crea la questione economica questa invece è una fonte direi assolutamente di unità, una radice comune o no? La Comece è sorta proprio per questo, per accompagnare il processo di unificazione dell'Europa e naturalmente questo accompagnamento che debba avvenire secondo i principi fondatori dell'Unione stessa e quindi l'insegna della solidarietà, l'insegna della sussidiarietà ma anche l'insegna di quella radice comune che è il cristianesimo e la Comece è appunto la commissione degli episcopati che svolge questo compito sostenendo, incoraggiando ma anche valutando, anche valutando le leggi, le normative che vengono fatte proprio perché corrispondono a quelli ideali iniziali e corrispondono anche alla vita buona della gente e naturalmente è una struttura, ogni conferenza episcopale ha un suo rappresentante c'è un presidente naturalmente, in questo caso abbiamo indicato l'arcivescovo cardinale di Monaco che si chiama Marx e insieme al presidente che è tedesco io credo che davvero sia una scelta anche importante perché la funzione, il ruolo della Germania in questo momento per il futuro della nostra Europa è un ruolo molto e davvero importante allora che ci sia un vescovo a capo della Comece, un vescovo tedesco credo che sia davvero una buona cosa anche strategicamente importante e poi naturalmente vi sono anche vicepresidenti, ecco io sono uno di questi insieme a un vescovo della Romania e al vescovo ausiliare di Bruxelles perché lui è anche il presidente diciamo della società che gestisce la Comece e deve essere un belga proprio perché la sede è nel Belgio Che tipo di rapporto con le istituzioni altre dell'Europa avete ma anche che cosa portate voi, cioè che tipo di polso riuscite voi a portare a chi poi anche quotidianamente collabora nell'Unione Europea ai livelli politici e economici che dicevamo prima? Beh io credo che nel passato hanno fatto un lavoro straordinario instaurare rapporti, relazioni, amicizie e questo ha aperto molte porte tant'è che nel trattato di funzionamento dell'Unione Europea vi è appunto una norma che stabilisce la necessità di un dialogo tra l'Unione Europea e le varie confessioni religiose, le varie chiese un dialogo che sia strutturato, costante, regolare, chiaro ecco noi siamo lì proprio disponibili perché questo dialogo avvenga tant'è che i vari presidenti vengono spesso e volentieri a parlare anche appunto a noi vesqui ma nello stesso tempo chiediamo noi audizione presso il presidente o presso un suo delegato proprio perché ad esempio nel caso concreto i dati personali, il trattamento dei dati personali per alcuni versi può essere come dire formulato in modo non rispettoso della dignità della persona umana e delle sue caratteristiche ecco quindi su ogni aspetto della regolamentazione, su ogni aspetto della vita economica vi è questo dialogo come per dare il nostro apporto ma anche davvero c'è il desiderio di ascoltare perché alla fin fine le chiese rappresentano i popoli e questo è molto bello da parte della chiesa cattolica come anche da parte delle altre chiese. Che cosa si aspetta, che cosa desidera e che cosa si auspica per il suo incarico ma anche proprio per questo ruolo che come ci ha spiegato è così importante. Il passaggio dalla relazione buona che è stata instaurata a un lavoro buono e positivo ecco credo che lì sia necessario lavorare e lavorare seriamente perché questo possa appunto avvenire perché non basta l'ascolto, non basti dialogo che sono elementi fondamentali della vita, occorre anche arrivare a delle decisioni che siano davvero rispettose della pluralità della realtà europea per cui io dico a volte viva il nord Europa che insegna a noi del sud Europa cose importanti il senso civico, il rispetto delle regole, il rispetto anche dei bilanci ma nello stesso tempo dico anche ci vuole un pochino più di Mediterraneo all'interno del nord Europa perché c'è anche un senso della socialità, c'è un senso della storia che rischia di essere a volte dimenticato. Ecco noi cerchiamo di realizzare questo all'interno della Comece ma il lavoro della Comece deve portare Mediterraneo in Europa come anche accogliere giustamente lo stile del nord Europa anche dal punto di vista economico, anche dal punto di vista della giustizia.